Guarda il corridoio scandinavo del quale si parla poco ma in cui la campagna è inserita a pieno titolo il neopresidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata da poche ore eletto alla guida dell'autorità di sistema con la firma al decreto del ministro De Micheli. Annunziata pone tra le sue priorità il confronto serrato e veloce con le parti sociali intese come imprenditori, sindacati, istituzioni, partiti, lavoratori è stato proprio questo sguardo a 360 gradi a consentirgli di ottenere rispetto alla sua candidatura all'autorità portuale un voto unanime. Un presidente e un comitato di gestione devono raccogliere le istanze di chi lavora nel porto di chi lavora fuori dal porto e collegato al porto e da lì poi tradurre in pratica le aspettative. Noi abbiamo bisogno di una logistica moderna e il corridoio scandinavo mediterraneo e le ZES ci daranno la possibilità di completare con i PON, con i POR, con i finanziamenti regionali, nazionali ed europei oltre al recovery plan famoso ci consentirà di completare una rete importantissima della logistica e quindi pronti ad accogliere tantissime navi da crociere e con questo dico che Napoli e Salerno non sono in concorrenza tra loro ma daranno possibilità e speriamo di farcela perché abbiamo delle potenzialità enormi rispetto alle potenzialità che ha una regione unica nel Mediterraneo. Annunziata che aveva lasciato il porto di Salerno prima dell'unificazione troverà il dragaggio completato che era stato tra i suoi obiettivi mentre bisognerà proseguire il lavoro per completare Porta Ovest Per cui parliamo di un'opera di dieci anni fermatesi per diversi motivi io voglio ricordare solo a me stesso che Salerno e con la mia modestissima opera siamo stati i primi a sollevare il problema autostrade in Italia quando ci bloccarono i lavori, signori dell'autostrada per il pericolo che crollasse il viadotto per lo scavo delle gallerie e quello fu uno dei primi momenti che hanno dato poi problemi all'opera e all'impresa che è fallita ma devo ricordare solo a me stesso che solamente purtroppo il Ponte Morandi poi ha dimostrato come autostrada autostrada e mancanza di totale mancanza di manutenzione sulla rete e quindi